Completata ieri mattina presso il liceo Alfonso Gatto di Agropoli la consegna dei banchi monoposto. La settimana scorsa ne erano stati consegnati 624, oggi ieri 226 per un totale di 850 banchi, dotazione richiesta dalla scuola. Questa ultima consegna ci consente di migliorare il piano organizzativo delle lezioni poiché con i monoposto possiamo accogliere un numero maggiore di studenti nelle classi e diminuire di conseguenza il numero di coloro che partecipano alle lezioni a distanza collegandosi da casa. Resta un'ultima consegna di 80 banchi da parte della provincia di Salerno. Completata la dotazione potremo allestire nuovi spazi da dedicare alla didattica come ad esempio l'ex casetta del custode nella sede di via Pio X, recentemente riqualificata dall'ente provincia. A renderlo noto è il dirigente scolastico Anna Vassallo che sottolinea siamo abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti ma ci sono ancora tanti aspetti da migliorare su cui cercheremo di intervenire tempestivamente con tenacia e determinazione.